Oggi parliamo di film Emulation e per farlo andremo insieme a Venezia. Iniziamo! 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 L'avventura veneziana è finita, siamo qua con le foto, siamo tornati in studio e adesso andiamo a vedere un po' con Lightroom e con The Answer come ottenere il film look di cui vi parlavo e poi parleremo anche di come ottenerlo via telefono. Partiamo, qua abbiamo davanti Lightroom, fondamentalmente ci sono due strade che possiamo percorrere. Una è quella di fare il nostro grading con Lightroom e poi andare ad aggiungere soltanto quelle che sono grana, elation, vignettatura con The Answer. Ma quello che farò in questo video è direttamente fare tutto il grosso, tutto l'heavy lifting su The Answer. Questo perché voglio replicare poi lo stesso processo anche da telefono e siccome non avremo tutto il pre di Lightroom anche da telefono andrò a sfruttare tutto su The Answer per farvi vedere insomma che direttamente con questo workflow riusciamo ad ottenere i risultati che vogliamo. Quindi vado ad effettuare un minimo di pregrade, vado giusto a recuperarmi un pelo le highlights di questa foto, possiamo addirittura se vogliamo approfittarne, visto che abbiamo scadato con Fuji possiamo approfittarne, approfittiamone e mettiamoci magari un profilo un po' più flat, magari ci mettiamo un'eterna, ci dà un profilo un po' più flat, un po' meno contrastato per avere un buon file di partenza su cui lavorare e andiamo a togliere qualsiasi cosa questo... non so cosa si fa. Va bene, andiamo ora su The Answer. L'interfaccia di The Answer sarà abbastanza simile a quello che abbiamo già visto su Final Cut per cui avremo semplicemente una sorta di mirroring di quello che è un workflow di foto a pellicola, quindi partiamo da acquisizione, poi abbiamo lo sviluppo, poi c'è la scansione, la stampa e quant'altro. Quindi stesso concept, abbiamo parte di sviluppo, compressione, espansione, la nostra print, se vogliamo aggiungere delle... se vogliamo andare a fare del bilanciamento dei colori, bilanciamento... grana, alation, blooming, vignettatura, esattamente quello che avevamo visto su Final Cut. E possiamo procedere o con un preset, oppure, e ce ne sono davvero di fatti bene e poi si possono salvare i propri preset, oppure si può procedere da un film stock, che è quello che faremo noi. Andiamo di Films, e io per questo, intanto se attiviamo Film Profile sicuramente si attiva più facilmente, andiamo a sceglierci. Non saprei, potrei dirvi anche che non mi dispiacerebbe un look tipo... tipo un... tipo un gold... tipo un gold. Vediamo cosa ci offre la casa. Vi dico di più, andremo di CineStyle 800. Partiamo con il nostro sviluppo, sicuramente abbiamo del contrasto da dagli in questo caso, perché la vedo veramente poco contrastata, e un po' di compressione non ci dispiace. Capiamo il livello di espansione, perché... non so quanto... ok. Per quanto riguarda la print, allora... Potremmo andare di print lineare, semplicemente, oppure possiamo farci anche la 2383 e la 3515, direi che sono veramente troppo estreme in questo caso. Quindi vi direi che andiamo di Glossy Paper, secondo me. e ci diamo un boost di contrasto, perché è veramente molto faded adesso come look, molto... come se ci fosse stato, sai, l'inanziamento della curva, che fa molto Pinterest 2016, insomma. Andiamo... mi sa che vorrei anche rendere il tutto un po' più... leggermente, sì, più warm... e... leggermente più verde, ma non così tanto. Ok. E... la nostra immancabile grana. Ora, non so se mi piace così tanto e così forte, sicuramente la voglio super fine, un po' come una grana tipo di un Portra, e magari riduciamo un po' l'ammontare. Così direi che non mi dispiace. E... vediamo se... avventarne eventualmente la risoluzione. Cosa molto molto bella di The Answer, che vi permette anche di scegliere quanta grana mettere nelle ombre, nei mezzi toni, nelle luci, quindi si può proprio scegliere un mix. Mi spingerò particolarmente le ombre. All'Action, onestamente... non saprei se quanto la voglio e se la voglio. Sicuramente non così tanta. Molto spesso vi conviene esasperare, quindi mettere subito al 100, sento l'effetto per vedere un po' dove va ad agire e poi eventualmente tornare indietro. Ho guardato lo schermo, non l'ho guardato voi, però insomma, avete capito. Direi che non mi dispiace un pelo, ma ne voglio veramente poca. E invece Blooming lo spingerei un filo di più. Magari un po' meno diffuso. Vignettatura come piovesse, magari un po' più esposta di così perché mi abbassa veramente l'esposizione. Direi che ha bisogno di un pelo di... no, decisamente non così. Ha bisogno di un pelo di extra... Andiamo a vedere un pelo di extra brightness con la print. e secondo me potremmo anche avere un look che... che ci piace. Forse un pelo di exposure in più. Direi che io sarei anche abbastanza soddisfatto. Ok, andrei ulteriormente ad aggiustare un po' l'esposizione perché ne ha persa veramente tanta e aggiungiamo forse un pelo di contrasto in post. E questo direi che è il nostro look finito. Ok, passiamo ora ad una bella flashata notturna. Ci piace sempre. Allora, intanto togliamo sicuramente sti occhi rossi. No, non era questo che volevo fare. Ha sbagliato Stull. Ok. A questo punto direi che sicuramente abbiamo tanto da recuperare. Soprattutto perché abbiamo un po' di sfondo dietro che ci potrebbe venire utile. Non è super a fuoco ma ci piace così. Le foto a fuoco sono overrated. A noi piace un po' così. E andiamo sul nostro caso di answer a questo punto. E qui possiamo... La cosa abbastanza figa è che tra l'altro vi tiene in memoria le precedenti regolazioni. Quindi eventualmente possiamo andare a applicare le stesse identiche regolazioni di prima. Anche se vi direi che onestamente non mi fa impazzire. Capiamo se c'è qualche presetta a questo giro. Potremmo anche andare di bianco e nero bello tosto. Bianco e nero violento potrebbe starci. Però non so se è proprio la strada che percorrerai in questo momento. Oddio, non so cosa sia questo. Non è neanche un film ma spacca. Vediamo. Vediamo cosa ci offre la casa. Vedo del potenziale in questo Velvia in realtà. Vedo del potenziale. E qua ad esempio la compressione ci salva assolutamente la vita. Anche se vi direi che sta roba è completamente... Completamente warm, fin troppo warm. Però potremmo spingere proprio per un look bello spinto. Anzi mi sa che è proprio quello che farò. Prima di cambiare la print anche. Potrebbe essere interessante. Magari spingiamo anche un po' di più sta grain. Spingiamo un po' di più la montare. Vorrei in qualche modo recuperare un po' di più questi black. Non così tanto però. Comunque anche se un po' andremo a washare tra molte virgolette il nostro file. Mi dispiace in realtà distruggerlo parecchio. Vediamo cosa possiamo fare se dovessimo togliere un po' di contrasto e eventualmente andare a raggiungerlo in post. Vediamo insomma adesso cosa si può fare. Io provo a twiccare un po' di cose. Vado a ruota libera e mi faccio trasportare dal flow. Vediamo magari di metterci un po' meno di animation. Allora non mi dispiace anche se vorrei recuperare un pochettino di più in qualche modo. Riusciamo a recuperare ancora un po' quello che è dietro. Ok siamo arrivati a un risultato super blu che a me onestamente non dispiace. Forse vorrei leggermente meno blu nel file. Esattamente come prima vado a fare due regalazioni extra su Lightroom. In questo caso alzo un po' steomber perché secondo me si può recuperare qualcosina. Non da fare maschere o cose del genere. Sembra surreale ci sembra quasi messo su un background. Però devo dire che non mi dispiace. Lo proverei con un'altra foto anche. E dopo del tweaking intenso siamo arrivati a questo risultato. Ok provata su un'altra foto con del range dinamico già recuperato. Tutto un altro sapore questo edit. Probabilmente lo vorrei molto meno tipo ciano. Però è un edit che può avere il suo percà insomma. Tutto un altro sapore su una cosa in cui abbiamo già più sfondo anche questo editing. Devo dire che non mi dispiace per niente. Ok come avete visto ci sono un sacco di possibilità tra print e una serie di combinazioni che si possono provare. Ho giocato anche molto con i file per vedere dove mi potessi spingere. Magari non sono questi gli edit definitivi a cui punterei. Però sicuramente era per far vedere quanta flessibilità c'è e quanto effettivamente potente possa essere questo strumento. Ma passiamo ora alla parte telefono. Ok ora che siamo giunti in una posizione più consona per un editing da mobile è il momento di guardare the answer da telefono. La prima cosa che possiamo fare dall'app è andare ad aprire una foto o un video. E questa è la prima particolarità diciamo interessante perché con l'app si possono anche editare i video. È super interessante perché si possono editare anche i video di altre camere oltre a quelle dell'iPhone. E infatti andremo ad editare dei RAW sia dell'iPhone che della mia Fuji in modo tale che vediate come il workflow sia fondamentalmente lo stesso anche da telefono. Andiamo ad aprire uno dei RAW. Partiamo da un RAW del telefono che potrebbe essere benissimo questo. E come vedete abbiamo ovviamente l'ultimo edit esattamente come per quello che abbiamo visto nella versione da computer. Ma abbiamo gli stessi identici preset. La cosa abbastanza interessante è che in realtà questo edit già funziona. Quindi potenzialmente possiamo andare ad aggiustarlo. E abbiamo fondamentalmente tutte quante le stesse schermate semplicemente ribaltate. E il workflow è fondamentalmente lo stesso. Andiamo a scegliere il film che c'è più con Geniale. Andiamo a capire se vogliamo modificare direttamente la sorgente. In questo caso io vorrei andare a editare leggermente le alte luci. Poi abbiamo la nostra compressione che a mio avviso necessita di essere spinta molto di più in questa foto. Andiamo a correggere il punto di bianco. E a questo punto abbiamo già un risultato che secondo me è abbastanza interessante per essere un RAW di un iPhone. Andiamo ora ad esportarlo. E questo è il nostro risultato finale. Con pochissimi click. Andiamo a scegliere un'altra foto. Magari prendiamo un RAW della camera. Tipo questo. Questo RAW di Fuji. Partiamo dall'originale in modo tale che si possa andare a sistemare la sorgente al meglio. Questo secondo me ha bisogno di molta più esposizione di così. E leggermente mi piacerebbe un po' più warm. A questo punto scegliamo il nostro film. Ma secondo me un Color Plus potrebbe essere quello che più ci si addice. O anche un Gold. Anche se il Porta 800 potrebbe essere veramente il nostro. Necessitiamo sicuramente di più contrasto. C'è sicuramente da espandere leggermente. Non mi dispiacerebbe farlo con dei neri leggermente più slavati come se l'avessimo pushato. E secondo me la print potrebbe farci una bella differenza. Magari una 2383 in questa istanza. Andrei a scaldarla onestamente ancora di più. C'è decisamente troppa lesione e troppo blooming in questo file. Cosa che decisamente voglio andare a modificare. Ma fondamentalmente siamo arrivati ad un risultato che non mi dispiace. Salviamo anche questo in galleria. Andiamo ora a prendere uno dei ritratti. Visto che ci siamo. Una di queste flashate. Magari ci possiamo fare un bianco e nero a questo punto. Visto che non l'abbiamo ancora usato. E potrebbe proprio essere un HP5 pushato. Vorrei ampliare ancora di più questo contrasto. E abbassare leggermente questi bianchi che sono davvero accecanti. Possiamo anche dargli un contrast boost fatto così. E poi direi che forse ho esaceratamente chiuso i neri. Poi andiamo a capire la nostra print. Perché volendo possiamo anche spingerci oltre. E tagli queste tonalità un po' verdi. Magari possiamo andare leggermente ad aggiungerci del blu. Diamo in una grana da 535 mm. Spingiamola. Why not? Un po' di elation in più. Il blu minghielo spingerai ancora di più perché abbiamo appunto questa luna dietro. Che secondo me potrebbe avere il suo perché. Un po' di vignettatura extra. E un filo di esposizioni. Ultimo step andiamo a prenderci un video. La cosa veramente bella è che possiamo editare il video esattamente come editeremmo una foto. Quindi possiamo prendere gli stessi identici preset che ci sono al lato foto. E applicarli completamente al video. Niente per questo video è tutto e vi ringrazio per averlo seguito fino a qua. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche informazione interessante su The Answer, sulla film emulation. Insomma che possiate trarre qualche tip, qualche trick da poi apporre e utilizzare nella vostra film emulation e nelle vostre fotografie di tutti i giorni. Ringrazio ancora The Answer per avermi fornito il plugin e l'app per fare questo video. E come al solito scrivetevi, mettete commenti, condividete le solite cose insomma. Adesso dovrei ricordarvi di farmi una lista delle cose che ci sono da dire alla fine del video. Comunque in ogni caso grazie per aver visto il video fino a qua. Ci si becca alla prossima. Grazie a tutti.